Marco Fermi, direttore degli internazionali T-Smoke di Bergamo. Qual è la novità di questa ennesima edizione che si preannuncia di successo? La novità più importante è di avere nuovamente un parco giocatore di altissimo livello. Abbiamo 2-3 milioni di giocatori italiani che sono Seppi e Bolelli. Comunque un parco giocatore di ex top 100, top 50 del classico che danno sicuramente l'ustre e qualità al nostro torneo. Cosa ci si aspetta in termini di affluenza, di pubblico, di appassionati? Direi che ormai i numeri sono abbastanza consolidati. Abbiamo registrato delle medie intorno ai 24-25-26 mila persone durante la settimana che ci vogliamo di confermare. Sicuramente l'accesso gratuito ci aggiungerà in questo senso in quanto avremo la possibilità di offrire a tutto il pubblico, appassionati e non la visibilità gratuita degli incontri. Qual è il valore aggiunto di un torneo come quello che si organizza a Bergamo? Sicuramente per il movimento è molto importante. Infatti la promozione, su cui puntiamo, abbiamo sempre puntato, di questo sport molto bello che ha portato sicuramente Bergamo ad essere una delle prime province a livello nazionale quanto movimento sportivo negli ultimi anni.